ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno Alex Zanardi incidente in handbike scontro con un camion in ospedale con l'elicottero le condizioni sono gravissime e forte trauma cranico lo scontro è avvenuto lungo la strada statale 146 nel comune di Pienza in provincia di Siena mentre partecipava a una staffetta l'ex pilota è stato ricoverato in codice 3 ha riportato un politrauma ed è stato operato i medici dicono prognesi riservata il CT Valentini ha detto subito dopo parlava sull'ambulanza non so coronavirus istat dice che se a fine anno rialza la testa a Bergamo e Cremona la speranza di vita degli over 65 torna ai livelli di 20 anni fa l'apporto sugli scenari di mortalità firmato anche dal presidente dell'istituto Giancarlo Blanciardo anche nello scenario moderato in cui l'epidemia a ottobre torna a diffondersi ma con meno violenza che nei mesi scorsi la speranza di vita nel nord ovest e lungo la dorsale appenninica scenderebbe di due anni effetto maggiore nelle province più colpite George Floyd il Parlamento europeo condanna il razzismo e sostiene Black Lives Matter, Lega e Fratelli d'Italia votano contro la risoluzione fonti del carroccio parlano di obiettivi utopici in realtà distorti, attacchi indiscriminati ai rappresentanti delle forze dell'ordine e alle forze politiche che esprimono pareri critici rispetto alla gestione dei fenomeni migratori nel testo gli eurodeputati invitano il governo, le autorità USA che condannano la repressione da parte della polizia e deplorano la minaccia del presidente Trump di dispiegare l'esercito rientro a scuola dal 1 settembre per recuperare il debito formativo la proposta di un gruppo di deputati di maggioranza il testo diviso per 10 punti è stato presentato da 20 deputati esponenti della maggioranza PD, l'EU, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e sarà discusso la prossima settimana in Commissione Culturale Montecitorio l'urgenza ora è recuperare il terreno perso e fare un salto di qualità nella gestione della crisi Recovery Fund Conte dice serve ok entro luglio ma resta la distanza con i rigoristi squilibrio aiuti prestiti difficile chiudere in estate i leader in videoconferenza per il Consiglio europeo hanno discusso del bilancio pluriannale del Recovery Fund per la ripresa è stato un vertice interlocutore in attesa di quello decisivo fissato in presenza per metà luglio Michael Michel scusatemi e sottolinea i punti divisivi a montare complessivo sconti di proporzione di prestiti e sovvenzioni condizionalità e criteri di distribuzione Merkel evidenzia i passi in avanti dicendo emissioni di bond della Commissione non è stata contestata il premier italiano chiede un'accelerazione di trattare su un unico pacchetto ma alla fine da Finlandia, Olandia e Svezia arriva la doccia fredda discussione non è progredita hanno detto Notizie da Napoli e dalla Campania Morto Mattia promessa del calcio ucciso a 11 anni da un infarto nel sonno non ce l'ha fatta Mattia il baby calciatore di soli 11 anni che è scomparso nelle scorse ore dopo ben 11 giorni di battaglia e quel maledetto infarto che l'avevo colto di improvviso Nato calcisticamente a San Giorgio a Cremano Mattia era stato scelto dalla sempre virtuosa cantera del Genoa Calcio Napoli via al mercatino sperimentale di Piazza Nolana un anno per 144 ambulanti la Giunta Comunale di Napoli su proposta dell'assessore al commercio ai mercati e alle attività produttive Rosaria Galliero ha approvato una delibera che istituisce un mercato sperimentale della durata di un anno di prodotti non alimentari in Piazza Nolana via Nolana, via Carmignano, via di Lorenzo e via di Bella ricadenti nella competenza territoriale della Seconda Municipalità Notizie da Treviso e dal Veneto Il graffito dell'aereo sul muro di Treviso caccia all'autore, allora era bimbo Il disegno che risale alla Seconda Guerra Mondiale scoperto da Relia sul muro di Viale Terza Armata Ora il Comune pensa alla salvaguardia e Zampese dice mando i documenti in soprintendenza Croce russa trevigiana in crisi senza sport e servizi, ora aiutateci voi Dimensati i bilanci, l'appello del Presidente del Comitato Provinciale che ha detto nell'emergenza Covid abbiamo dato tutti il massimo Lutto sulle colline del Prosecco di Io ad Angelo Rebuli Il fondatore dell'omonima azienda agricola di Saccol si è spento giovedì all'età di 83 anni Presso la chiesa di San Pietro di Barbozza oggi alle 15.30 si terrà il funerale Costretti a lasciare la piscina dipendenti senza lavoro a un passo dalla pensione Giulio Marittimi titolare di Atlantic Sport spiega le ragioni che hanno portato alla chiusura della piscina di via Vazzole a Villorba Ha detto non ci hanno rinnovato il contratto di gestione La figlia segreta dell'imprenditore a 46 anni scopre chi era il vero padre Il Tribunale di Treviso grazie a numerose testimonianze è giunto alla pronuncia giudiziaria di paternità nei confronti dell'uomo che si è sempre rifiutato di essere sottoposto al test del DNA Adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra inviata da Udine Sabrina Cicotti Dopo un lungo periodo di chiusura forzata riapre il Teatro Nuovo Giovanni da Udine Oggi 19 giugno 2020 il direttore artistico musica Marco Feruglio ha potuto presentare la rassegna degli spettacoli che si terranno dal 2 luglio al 26 agosto Sarà allestito un nuovo palco all'aperto con 150 posti a sedere Sarà possibile accedere ad una serie di laboratori per bambini ed anche delle visite guidate E tutto da Udine Sabrina Cicotti per Radio Science Bene e prendiamo la parola per riprendere con la lettura delle notizie Gli hotel spalancano le porte sulle spiagge della regione Sprende di nuovo il sole dopo la tempesta Gli hotel quindi spalancano le porte Se ci si fermasse ai dati pubblicati sui media nazionali l'estate sarebbe già finita Secondo Federalberghi solo il 40% degli hotel italiani attualmente aperto Il 26,8% ha deciso di tenere chiuso per tutto il mese di giugno Solo il 78,9% prevede di essere aperto ad agosto 2 su 10 quindi Se questi numeri non bastassero a far accapponare la pella Si stima anche che nel 2020 in Italia ci saranno 31 milioni di turisti stranieri in meno Quindi un'ecatombe Mal tempo allagamenti nella bassa friulana Si segnalano alberi abbattuti a clausetto I principali fiumi e torrenti sono sotto i livelli di guardia Una serie di temporali anche organizzati in sistemi Si è sviluppata nel corso del pomeriggio In prevalenza sulla pianura friulana Ci sono stati alcuni temporali forti Prima a sud di Udino e poi verso il confine tra la Tisana e Porto Gruare La pioggia più intensa ha toccato i 38 mm in un'ora ad Aris di Rivignano Teor Mentre la raffica di vento più forte legata ha toccato i 77 km all'Estizza Grave infortunio sul lavoro in piazza Piancavallo Un operaio impegnato nel cantiere è stato colpito alla testa dalla benna dell'escavatore L'infortunio sul lavoro nel pomeriggio intorno alle 15.30 di ieri in piazzale Mario della Puppa A Piancavallo in comune di Aviano nello Slargo al centro della località turistica Sono in corso dei lavori di sistemazione e piove molto Durante alcune operazioni un operaio è stato colpito alla testa dalla benna dell'escavatore Ha riportato un grave trauma cranico e per lui si è premuto il peggio Stabilizzato sul posto dal personale sanitario intervenuto con l'elicottero e un'ambulanza medicalizzata E' stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita Esce di strada e termina la corsa su una fiancata Incidente nella tarda mattinata a Fratte di Cimpello I pompieri hanno liberato la conducente incastrata nell'abitacolo Un incidente stradale in tarda mattinata in località Fratte di Cimpello in comune di Fiume Veneto Un'auto è uscita autonomamente di strada dopo aver urtato un palo della segnalettica stradale Ha carambolato superando il fossato al lato della carreggiata Arrestandosi su una fiancata All'arrivo dei soccorritori la conducente era ancora all'interno del mezzo I vigili del fuoco di Pordenone hanno collaborato con i sanitari giunti da Pordenone Con l'automedica e da Zano Decimo con l'ambulanza per liberarla dall'abitacolo Sul posto anche la Polizia Municipale di Azzano Su Udine vigileranno 67 nuovi occhi elettronici Il comune ha deciso di ampliare il proprio sistema di videoserveglianza con 67 telecamere Il comune di Udine ha deciso di ampliare il proprio sistema di videoserveglianza attraverso queste saldazioni di nuove telecamere Si tratta del più grande intervento di questo genere nella storia della città Lo annuncia l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani Bene cari amici con questo è tutto Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa In studio con voi Rosario Moreno Buon proseguimento con la programmazione Grazie a tutti